Ciao ragazzi abbiamo iniziato, anzi abbiamo finito la nostra registrazione del nostro nuovo DVD della lamberobica, siamo in Italia, Napoli, ok? E ora scambieremo due parole con voi, ok? Parleremo un po' di come è andata, le prove, le sbaglio e questa è anche una prova del nostro inbox, del nostro programma in tv che a presto partirà, ok? Ma io inizio a parlare io, la prova per me è andata bene anche perché abbiamo una persona qui che è la prima volta che registra un video e in due o tre ore di registrazione abbiamo fatto cinque o sei fotografie finita, è un buon profitto per la prima registrazione, ok? Quindi io passo la parola un po' a Valeria che dirà un po' delle cose che è successo, che è piaciuto, gli sbagli, gli schessi, qualche saluto. Valeria! Ciao ragazzi, sono Valeria Araújo, lo so che tutti quanti mi conoscono, la prova di oggi è andata benissima, abbiamo fatto alcune coreografie per voi, aspetto di cuore che è sempre piaciuto del nostro lavoro, e noi siamo qui giusto per fare con che la lomba e l'obica cammini sempre avanti, che noi siamo una famiglia, Brasile e Italia insieme nel cuore. Leila? Io, prego. Ciao ragazzi! Io mi chiamo Leila Souza, ho fatto già un po' di video, penso che anche voi mi conoscete pure. Io per me è stato bellissimo fare le registrazioni del video. La prima cosa, da tanto che non facevo insieme al mio maestro, che adesso siamo rincontrati, poi ho conosciuto tre persone anche di più, tre persone meravigliose, che già sono entrato nel mio cuore pure. E vi saluto a tutti, e vi chiedo di guardare sempre i nostri video, di iscriversi nel nostro canale, Lomba Erodica, Leandro Araújo, per sempre. Guarda, io passo la parola a questa bellissima ragazza. A Fabio, a Fabio. Questa bellissima ragazza, la faccio io. Angela. Ciao, ciao a tutti, sono Angela, ovviamente voi conoscete, conoscete anche me, faccio parte dello staff. Stasera ci siamo scatenati, abbiamo sudato, lavorato tanto, abbiamo fatto tante coreografie per voi. Mi raccomando, seguiteci, fateci sapere, fateci sapere se vi sono piaciute le nostre coreografie. Passo la parola a Fabio. Ciao a tutti, sono Fabio Lazzaro, siamo stanchi, perché è fatto tanto, è bene ragazzi, siamo troppo stanchi, sono alle due e un quarto, ok? Quasi le tre del mattino, però è fatto con l'amore, che questa è la cosa, Lomba Erodica Amore, metti mi piace là, Lomba Erodica, su YouTube, ok? Sì, vamo che vamo, ascia tutti, un bacione, un bacione, un staff, Lomba Erodica, inscrivete nel nostro canale, Leandro Lomba Erodica, ok? Sì, vamo che vamo! Andate nel nostro canale YouTube, Lomba Erodica, mi piace, mi piace, mi piace, ok?